Sono stati completati al Tribunale di Teramo i lavori di ammodernamento dell'Aula Falcone Borsellino, interventi molto attesi che hanno riguardato la sostituzione delle sedute ma soprattutto un importante miglioramento dal punto di vista tecnologico dell'aula più importante del Foro Teramano con monitor, telecamere e connessione sia dati che video con altre aule. La fruibilità di tali sistemi di partecipazione a distanza rappresentano una delle migliori soluzioni organizzative per la celerità di definizione dei procedimenti soprattutto nelle fasi collegate alle udienze. In questi anni per rispondere alle esigenze di spazio il Tribunale Teramano aveva stipulato un accordo con l'Università di Teramo per l'utilizzo dell'Aula 12. Il collegamento che è stato realizzato tra tre aule, questa qui Falcone e Borsellino e altre due aule del Tribunale che tecnicamente si chiama un collegamento tra aula master e aule slave, cioè aula principale e aule schiave, cioè a servizio di quest'aula, consente sostanzialmente di triplicare la portata e la capacità di contenimento di persone di questa struttura per celebrare processi che abbiano dimensioni sia per numero di parti che per numero di imputati o di testimoni molto importanti. Evidenti e innegabili vantaggi in relazione ai tempi e costi di trasferimento fisico dei testimoni, periti, consulenti e degli stessi difensori rispetto ad efficaci collegamenti in telepresenza in alta definizione. Questa era una grave carenza effettivamente del Tribunale, adesso il collegamento è audio-video sia con le due ulteriori aule d'udienza di cui abbiamo parlato, sia con il carcere. Infatti il Ministero ci ha dotati anche del servizio di multivideoconferenza che è necessario in base al codice di procedura penale e le disposizioni di attuazione del codice di procedura penale per celebrare processi con imputati detenuti in cui vengono ascoltati sia come imputati e in qualche caso anche come correi, come chiamati in correità o come testimoni a volte. qualora siano ristretti in aree o di massima sicurezza o di le cosiddette aree covid, così il processo può andare comunque avanti.